Ciao a tutti e benvenuti su Dentro la Scatola per una nuova recensione. Sì, lo so, avevo promesso che la prossima sarebbe stata quella di Ravens of Tree Sakashri, però ci sono stati dei contrattempi e quindi sarà la prossima. Oggi però vi parlo di un gioco sempre di carte, sempre a scatola piccola e sempre dallo stile per così dire minimalista. Oggi vi voglio parlare infatti di Fantasy Reams, gioco da 2 a 6 giocatori della durata indicativa di un 15 minuti a partita. In questo gioco ci troveremo ad impersonare dei re che dovranno costruire il proprio regno fantasy e farlo prosperare con unicamente 7 carte a propria disposizione. Al contrario di quanto il nome possa fare pensare, il gioco non ha nessuna relazione con i ben più noti Hero Reams e Star Reams, anche se si tratta comunque di giochi di carte a singolo mazzo. Ma direi di non dilungarci oltre, andiamo direttamente a vedere come si gioca e poi ci rivediamo qui e vi dico che cosa ne penso. Ma prima, sigla! Ma prima, sigla! Il setup di Fantasy Reams non potrebbe essere più semplice. Semplicemente si prende il mazzo, lo si mescola e si danno 7 carte a ogni giocatore. Qui simuliamo una partita a 3 giocatori. Ognuna delle 53 carte di Fantasy Reams è differente, ma riporta lo stesso tipo di informazioni. Seme, ce ne sono più di 10 più le 3 carte wild, nome della carta, forza, bonus o penalità. In Fantasy Reams la mano di ogni giocatore costituisce un regno che egli dovrà migliorare turno dopo turno. Lo scopo del gioco è ottenere la mano con il punteggio più alto alla fine della partita. Per farlo, ogni giocatore nel proprio turno semplicemente pesca una carta e scarta una carta, cercando di migliorare lo stato della propria mano. Le carte scartate andranno a formare un'area comune da cui tutti i giocatori nel proprio turno potranno pescare. Quando la decima carta viene scartata nell'area comune, la partita termina. Chi ha più punti nella propria mano vince. Il bello di Fantasy Reams sta proprio nei bonus e nei malus di ogni carta, che la rendono più forte o più debole a seconda di quali altre carte si hanno in mano. Per esempio, se siamo in possesso nella nostra mano di un unicorno e di una principessa, insieme a altre carte naturalmente, l'unicorno ci darà 9 punti più 30 perché siamo in possesso della principessa. La principessa invece ci darà 2 punti più 8 punti per ogni altra carta del seme dell'esercito, dello stregone e del leader. In questo caso non abbiamo altre carte, quindi la principessa vale solamente 2 punti. Se invece avessimo, per esempio, un unicorno e un drago, l'unicorno varrebbe solo 9 punti perché non siamo in possesso né della principessa, né dell'imperatrice, della regina o dell'incantatrice. Il dragone è ancora peggio perché vale sì 30 punti, ma se non siamo in possesso di un mago ci dà un meno 40 di malus, quindi sarà un meno 10. Meno 10 più 9, siamo a meno 1. Queste due carte sono di fatto un malus. Alcune carte naturalmente hanno effetti più complessi. Per esempio, l'albero del mondo ci dà più 50 punti, quindi un sacco di punti, 52 punti, 50 più i due di base della carta, però solo se tutte le 7 carte della nostra mano hanno un seme differente. Poi abbiamo, per esempio, la runa protettrice che cancella la penalità da tutte le carte, che è molto positivo se abbiamo tante carte con grosse penalità. Tutta invece dà soltanto un punto. Abbiamo innanzitutto il tornado che ci dà 13 punti di base più 40 punti se abbiamo anche la carta Rainstorm e o la carta Blizzard oppure la carta Great Float. Soltanto un'altra mente non abbiamo nessuna di queste, quindi ci dà comunque 13 punti che non è male. Poi abbiamo l'arco lungo elfico che ci dà 3 punti più 30 punti se abbiamo gli arcieri elfici, il Warlord o il Beastmaster. Abbiamo gli arcieri elfici, quindi sono 3 punti più 30. Poi abbiamo gli arcieri elfici che ci danno altri 10 punti più 5 punti se non abbiamo nessuna carta Weather, però ce n'abbiamo una, quindi ci danno solo 10 punti. Poi abbiamo l'affanteria Nanica che ci dà 15 punti, però meno 2 per ogni altra carta con seme esercito e ne abbiamo altre 2, quindi 15 meno 4, 11 punti. Poi abbiamo i cavalieri che ci danno 20 punti e come penalità meno 8, a meno che non abbiamo almeno un leader, ne abbiamo 2, quindi 20 punti. e infine abbiamo il re che ci dà 5 punti per ogni... beh, gli 8 punti di base più 5 punti per ogni esercito, però attenzione, se abbiamo anche la regina e ce l'abbiamo, sono 20 punti per ogni esercito. Quindi sono 1, 2, abbiamo 3 eserciti, sono 60 punti. La regina fa la stessa cosa, quindi sono altri 60 punti più i 6 della regina. Quindi adesso non sto a calcolare qua il punteggio totale, ma comunque abbiamo un blocchetto delle annotazioni in cui si possono annotare i punti, quindi è più facile calcolare il punteggio di fine partita. In due giocatori si può giocare o con la versione normale del gioco, e funziona benissimo, oppure con una variante che prevede di iniziare, anziché con 7 carte, con 0 carte in mano. Invece di pescare una carta a turno, se ne pescheranno 2 e se ne scarterà una. Una volta arrivati a 7 carte in mano, il gioco procede come nella versione normale, con l'unica eccezione che la condizione di vittoria, anziché essere la decima carta scartata nell'area comune, sarà la dodicesima carta scartata. E questo era Fantasy Reams. Che dire, il gioco secondo me è passato un po' ingiustamente in sordina, perché ha veramente molti punti a suo favore, ha una bella grafica, ha dei componenti di buona qualità, un prezzo più che buono, e si può veramente proporre a chiunque, perché lo si spiega in 5 minuti, lo si gioca in 15, e non occupa nemmeno tanto spazio sul tavolo, quindi lo si può portare un po' ovunque. In più, è facile da imparare a giocare, ma cresce poi di partita in partita, perché non solo bisogna imparare a fare le combinazioni migliori, ma c'è anche un elemento tattico molto presente, perché non sai mai se usciranno le carte che ti servono, magari le ha prese qualcun altro, magari in quella partita non usciranno, e quindi bisogna anche adattarsi molto alla situazione. In più, anche la scalabilità è più che buona, l'ho provato in due giocatori, si gioca veramente bene, fra l'altro c'è anche una variante che lo rende ancora più strategico, ma anche con le regole normali funziona molto bene. L'ho provato anche in sei e in quattro giocatori, e l'ho trovato molto piacevole. Se devo trovarci un difetto, ma è molto soggettivo, in sei giocatori, e immagino anche in cinque, visto che la condizione di vittoria non cambia, si giocano meno turni, e quindi c'è meno possibilità di personalizzare la propria mano. Questo vuol dire che se partiamo con una mano iniziale, sfavorevole in due giocatori, avremo comunque modo di recuperare, in sei diventa un po' più difficile. Però comunque il gioco dura 15 minuti e si può fare subito un'altra partita e ci si è già dimenticati del problema. E niente, vi invito a provarlo questo Fantasy Reams perché è veramente stato ingiustamente ignorato e mi ha piacevolmente sorpreso. Vi invito anche a lasciare un mi piace qui sotto se vi è piaciuto il video e lasciatemi un commento se volete farmi sapere cosa ne pensate del gioco, se l'avete provato o se vi ho invogliato a comprarlo. E vi ricordo anche che potete seguirci su Facebook, su Telegram e da qualche tempo anche su Instagram. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video! iscriviti al canale!